Luciano Spalletti resta sempre connesso alla nazionale e la prepara al meglio insieme allo staff. In casa, grazie alla potenza della fibra fino a 10 giga e fuori con la velocità del 5G di Team, puoi averli anche tu a un prezzo speciale. In più, con Team Unica Power, hai giga illimitati in 5G gratis per la tua famiglia. Vai su Team.it! Team, la forza delle connessioni!